un tentativo ragazzi non ci metto manco la colonna sonora di sottofondo perché meglio sentire i suoni del video certo logico allora ragazzi ci siamo siamo microfonati diversamente stasera io penso che ci sentirete bene poi se c'è qualche problema nell'audio ce lo dite ciao ilaria buonasera ben vista non so se ho messo il vostro voice o no ma meglio di no perché tanto per quello che si fa stasera non non è interessante sentire il voice date che lo controllo eccolo qua buonasera e roberto buona sera buona sera buona sera ragazzi all'inizio allora aspetta poi devo spingere le casse quelle sennò mi rientrano nel microfono ecco la rotte come le senti loro per forza ciao stefano e roberto e buonasera a tutti buonasera ragazzi ciao stefano e ciao roberto ciao stefano e roberto cerchiamo di capirci qualcosa questa sera si parla della urbez che abbiamo fatto l'altra sera io e roberto ora lui sentirà un po' in ritardo perché sente il ritorno invece che la mandata comunque gli fa niente tanto anche se mi senti dopo è uguale no buonasera a tutti ciao stefano e roberto va bene ragazzi buonasera a tutti un abbraccio roberto stefano vi parleremo stasera vi faremo vedere i pezzi più interessanti della urbex dell'altra sera vale la pena perché siccome abbiamo riscontrato cose interessantissime voleva farvi vedere insieme a noi guarderemo quello che abbiamo scoperto dentro questa urbex quello è un posto dove faremo un'indagine paranormale buonasera stefano e a tutti voi grazie ragazzi buonasera a tutti bene dai e allora vi faremo vedere questa sera alcuni spezzoni di questi punti interessanti e io e roberto abbiamo scoperto quando abbiamo riguardato il video della della urbex specialmente quello che ha fatto la videocamera quella full spettrum o quell'alta definizione perché la parte che ha ripreso ciao stefano grp ciao buonasera da aniris e poi chi è entrato buonasera manuela buonasera anche a te sera mimina buonasera chissà se posso tirar fuori un altro rullo che si vede un pochino meglio tu da te ci prova questo qua io lo potrei sganciare e se mi viene sovrapposizione lo tengo di là vediamo se arriva quindi vi faremo vedere ora io e roberto che cosa abbiamo chiocciola emanuele d'amore sera eccolo qua mimina alla crema mimina alla crema una sera stefano roberto patrizia sera l'uno chiocciola m i m m i n a sera chiocciola m i m m i n a ciao cara silvia giacomo anche a te buonasera a stefano e roberto che non vedo io li vede roberto ciao stefano e a tutti o l'uno l'altro vi saluteremo se mi saluto io anche da parte di stefano e stefano anche da parte mia roberto ha microfonato anche lui come me quindi abbiamo due microfoni da bavero come si chiamano perché abbiamo cambiato un po' la tecnologia prima si andava con il vp ma si sentivano le formiche che camminavano nella strada salve stefano e roberto chiocciola silvia ciao tesoro buonasera anche a te poi stefi che ciao stefi mi conviene abbassare il rullo fa troppo casino non ti sentiamo non mi sentite perché c'è troppa voce nel rullo buonasera a tutti ed anche a roberto e stefano ciao stefanuzzo chiocciola stefano ciao sera chiocciola patrizia questo è il microfono stereo e ora ho abbassato un po' la vostra di voce così magari sentite meglio quello che si dice noi eh l'ho tirato giù del 40 per cento ora appena parlate vediamo se così accettate grazie mimmina della condivisione e della live grazie delle condivisioni ragazzi chiocciola patrizia sera a te chiocciola cuore bianco cuore bianco cuore bianco caccia Tra qualche minuto, visto che siamo abbastanza, cominceremo a farvi vedere... Buonasera a tutti del rullo e a Stefano e Roberto. Se entrano altre persone, mi fanno... Allora cercheremo di fargli rivedere altre volte il video. Stefano, sto facendo divan per sistema. Vediamo un po', eh? Stai facendo il do-and del sistema, il download? Penso di sì, dai, si tratta del download. Allora, inserisco il filmato, vediamo da dove parte. Allora, incominciamo da questa prima scena. Ora ve la faremo vedere in vari modi, anche in slow motion. Dove abbiamo notato una presenza... Io credo che sia una ragazza di svolazza nella soffitta dove non siamo potuti andare. perché c'era semplicemente questa botola, che vedete, ma non avevamo nessuna scala per salirci. Come state? E abbiamo sentito qualcosa di anomalo, di rumori, un sasso che cadeva da lassù, da quella soffitta. Ora vi faccio vedere che cosa si vede. Il spagnolo e il rullo. Il rullo audio. Io sono qui con la febbre, seguo a te e a Roberto. Aspettate un attimo, rispondo il rullo audio. Eccolo là. Dovrebbe essere sparito. Allora, guardate un attimo il video. Mi fermerò... Cioè, ve lo farò vedere anche al ralentatore. Comunque, guardate dentro quella botola che c'è in alto, va bene? Grazie Priscellina. Un altro soffitto nascosto. Questa era con la scala. Qui ci vuole la scala però. Ecco, vedete che c'è quella... Quella cosa in movimento. Ora io vi torno anche un attimino indietro. Vi faccio vedere nel momento che si vede un po' meglio, all'incirca qui. Sembra una... Credo una donna. Credo che sia una donna. Potrei provare anche a ingrandire, eh? È un perfetto, però così. Perfettissimo. Sicuramente così la vedete. Vi faccio rivedere questa scena a slow motion. Con questo ingrandimento. Eccola lì, la vedete? C'ha una specie di cappuccio in testa. C'ha le mani, una di qua, una di là. E' nascosta nella soffitta. Però non avevamo la scala per andarci. Ok? Quindi questa è una delle prime cose che abbiamo scoperto nel video di questa Urbis quando l'abbiamo riguardato io e Roberto. Vedete che poi si dissolve. Mi si vede un pezzo di una mano. E poi si dissolve del tutto. Bene. Qui c'è un'altra cosa nel pozzo. Ora io alzerei l'audio di questo media player. perché voglio che questo lo sentite. Eccolo qua. Lo alzo parecchio. Qui si sente questa cosa nel pozzo. Quanto è profondo. Quanto è profondo. C'è qualcuno. L'avete sentito quell'eo? Lo fai sentire. C'è profondo. C'è qualcuno. Se avete sentito quell'eo. C'è profondo. L'avete sentito? C'è qualcuno. E quello è un suono strano che abbiamo sentito nel pozzo. Il primo suono strano. Poi qui c'è il pezzo dove si sente cadere un sasso. C'è qualcuno? L'avete sentito quel sasso che cade? Quello fa risentire. E subito dopo la caduta del sasso per terra c'è U. Qualcuno che fa U. Quello fa risentire. Era dietro di noi. E praticamente credo che questo sasso o qualcosa che abbiamo tirato venga da quella soffitta dove c'è quella botola dove abbiamo visto prima quella sagoma. Ora andiamo avanti che ci sono altre cose. Aspettate un attimo. Qui dentro questa stanza ci sono dei rumori tipo relè però la corrente in questa casa non c'è più da parecchio tempo. Avete sentito quei tic e tic 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 tic? Quello è una specie di un relè elettrico ma nella casa non c'è corrente. Quindi è molto strano che ci sia sto rumore. Allora qui c'è un'altra cosa che è successa nel pozzo. Praticamente quando io mi allontano dal pozzo e sto con la telecamera girata verso l'ingresso sento un languido un urlo una grida qualcosa del genere così di sfuggita. Poi è stato amplificato. E' stato amplificato. E' stato amplificato. Ora vi fa sentire cosa viene fuori. Ci hanno buttato più di una persona. L'avete sentito? Vuoi sentire? Però devo spostare questo di qua. Questo mi dà proprio noia. Sentite ragazzi? Ci hanno buttato più di una persona. Li posso magari ci hanno buttato più di una persona. Mi faccio risentire il suono. Buonasera. Un urlo. Un urlo di donna. Bravissimo. Li posso magari ci hanno buttato più di una persona. Aspettate che ve lo fai sentire. Senti tutti un attimo. Li posso magari ci hanno buttato più di una persona. Li posso magari ci hanno buttato più di una persona. Che era? E poi io. C'è qualche anima? Ho sentito una vocina tipo così. Vi faccio rivedere il pezzo. Vabbè questi sono i punti più interessanti. Che vi si è fatto vedere ora. Di la urbex che abbiamo fatto l'altra sera. Quindi c'è già su YouTube la versione. Quella che è andata su TikTok. Che è quella a bassa risoluzione. Lì si vede un po' di meno. C'è anche meno audio. Però questa versione qui. Fatta dalla telecamera full spectrum. La metterò su YouTube. Probabilmente domani. Quindi vi potete riguardare la urbex. Tutti quanti insieme. Perché è importante. Ci sono parecchie cose dentro. Dopodiché. Abbiamo da fare un'altra urbex. Che ho già preparato il post. Ci ho già a mente dov'è. E poi cominceremo a fare le indagini in questi posti. In questo casale qui. Dove abbiamo preso l'urlo della bimba nel pozzo. Ci facciamo un'indagine. Io e Roberto. E anche Massimo Mancarelli. Se vuoi venire. E gli altri componenti del gruppo. Appena possibile. Però prima abbiamo da fare un'altra urbex. Perché lì accanto. A 400 metri da quella villa abbandonata. Ce n'è un'altra. Molto più fatiscente. Però staremo attenti. Che non ci siano posti troppo pericolosi. Perché è bella anche quella. Probabilmente troveremo qualcosa anche lì. Siamo abbastanza fortunati. Bene ragazzi. Vi abbiamo fatto vedere. I pezzi importanti di quella urbex. Mi pareva logico. Si è scappato per la paura. Ma non è la paura? Eh vabbè dai. Noi abbiamo visto anche altro eh. Non solo. Le urla nel pozzo. Se guardate l'indagine. A potere il casone. C'è anche una manina. Che esce. Di un bimbino. Che è stato buttato anche lui nel pozzo. Quindi ci so cose importanti. I pozzi sono. Spesso. I posti dove. Venivano gettati. I figlioli. Non voluti. O quelli venuti per sbaglio. O quelli che andavano nascosti. Per via che se no. Poi succedeva qualcosa. Per parecchi anni. Facevano sparire spesso. I bambini. Perché. C'era qualche motivo dietro. O perché erano minorenni. Le donne rimaste incinte. O perché. La famiglia aveva paura. Di fare una figura brutta. E comunque si vergognavano. Di un accaduto molto particolare. Ciao Luana. Facevano sparire. Bene. Se fate una ricerca. Nel medioevo. Vedrete che. Nei pozzi. Spesso. Ci buttavano dentro. Insomma. Le cose che erano più. Comprese quelle lì. Secondo loro. Quindi. Ora vi ridò. L'audio. Anche a voi. Si fa una chiacchieratina. Abbiamo visto. Quel pezzo di video. Che poi lo trovate su YouTube. Dateci la vostra opinione. Cosa ne pensate. Vi ridò. Un attimo. Voce anche a voi. Aspettate un attimo. Vediamo un po'. Se riesco a rialzare. Madonna. Poveri bimbi. Che l'avevo abbassato. Ciao Stefano. Ciao. Ciao al tuo amico. Ne pozzi. Cipottano 200. I bambini sono un dono. Eh lo so che sono un dono. Chiocciola Luana ciao. Una volta non era così. Siete bravissimi. Erano. Secondo me urlo di donna. Un errore spiacevole. Capito? Ciao Stefano e Roberto. Non mi sembra più di un bambino. Ciao Stefano e Roberto. Allora Manuela che ci dici? Chiocciola cuore bianco. Cuore bianco. Cuore bianco. Cuore bianco. Ciao ciao pace. Qualcosa da dire su questa urbex che abbiamo fatto? Volete parlare di qualcosa? Noi siamo qui a disposizione. Ciao Stefano e Roberto. Siamo tutti e due microfonati. Sera. Non c'è nessun problema. Elisa e un dono. Ciao Fabiola vorrei anche a te. Roberto volevo dire ciao. Secondo me era di donna. Ciao. Anch'io penso urlo di donna. Ciao urlo. Pensi che era urlo di donna. Chiocciola Andrea Casole 382 ciao. Può darsi davvero perché quella che abbiamo visto nella botola può in fin dei conti era una donna. Anche a me sembrava una donna. Questo è morta lei nel corso eh. Stefano sarà una bella live quando andrete a farla. Roberto volevo dire ciao. Chiocciola Andrea Casole 382 ciao. È già su YouTube. Chiocciola Andrea Casole 382 ciao Andrea. Ciao. Chiocciola Adele. Il tuo pompa troppo il microfono. Perchè è diverso dal mio. Oppura bimbi sacrificat. Eh Stefano io so io. Ah e il tuo va di più perché c'ha la voce. Appena stacchi la vado a vedere. Qualche donna che si è buttata nel pozzo. Può essere? Può essere sì che si è suicidata per qualche motivo nel pozzo. Poi la parte fisica. Chiocciola Elisa ciao Elisa. Cioè il corpo rimasto nel pozzo. Ma la coscienza, l'anima risiede in quella botola dove l'abbiamo vista. E qualche volta va anche al pozzo. Chiocciola Ioana Poiar 43 Vlad Tepes. Questa che vi dico eh. Secondo me Stefano no. Secondo me sono due soggetti diversi. Oppure sono due persone diverse eh. Quella del pozzo è quella del pozzo. NN Soil X K E. I bimbi ci vanno sempre nel mezzo. Eh lo so. Buonasera Stefano e Roberto. Buonasera Antonella. Ciao Antonella. In vista anche a te. Ciao tutti. Comunque queste scene qui le vedrete su YouTube. Chiocciola Luana perché sono anime innocenti. Alta definizione. Chiocciola Luana perché sono indifesi. Eh sono indifesi sì i figlioli povretti. Stefano ma chi si suicida ma non sta bene di mente non vengono accettati. Non vengono accettati. Chiocciola Elisa sì gioia mie. Tribolano a passare oltre. Chiocciola Elisa Elisa per sei buona. Occhio che non vedano la luce addirittura. Non sanno dove andare. Chiocciola Patrizia vite belle. Trovano un passaggio e rimangono lì. Buonasera a tutti. Chiocciola Luana sera. Buonasera a te ben visto. Poveri bambini. Ho sentito un rumore qui. Chiocciola Max. Passione Paranormal sera. Chiocciola Max. Passione Paranormal sera. Ho sentito il rumore. I bambini sono anime di Dio. Chiocciola Max. Passione Paranormal ciao Max. Aspettate un attimo. Rumore. Stefano non si sente cosa dici. Chiocciola Patrizia ciao. Poveri delfini. Chiocciola Priscilla cuore bianco. Ma strano però. Chiocciola M-I-M-M-I-N-A ciao. Chiocciola Daenerys Targaryen bambini. Chiocciola Max. Passione Paranormal sera Max. Chiocciola Luana ciao. Chiocciola Priscilla N-N esiste Dio solo dei. Eccola. Ora ce l'ho un po' più vicino alla bocca, speriamo che lo distorbe. Penso di… Troppo alto volume rullo. E la mia di voi c'è un po' più cupa e più bassa. La tua sua ocupa. Che senti una più forte. Che sento una più forte? No, è già meglio. Allora. Vediamo un po', eh? mi faccio rivedere un attimo sto video poveri calzini dice la donna da quelli che sono entrati ora così la elisa sera allora guardate questo video fino in fondo poi ve lo rispiego una volta un'altra volta quelli che sono entrati ora la soffitta un altro soffitto nascosto questa è la scala qui ci vuole la strada però come si fa andare lassù avrete visto tutti quanti con la presenza come ho fatto prima ve l'angrandisco perché mi garba di farvi vedere le cose aspettate che l'angrandisco un bel po' guardate dentro la botola è una femmina una donna no no che filtri è il video della telecamera è una signora con cappuccio in testa sembra che c'è una sciarpa e tiene le braccia aperte aspettate che torno un pochino indietro che si vede meglio no 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 sono quella della telecamera la vedete ora? la persona che è lì in soffitta? mamma mia chiocciola patrizia poi vi faccio vedere quest'altra cosa una si sente male di queste cose quella del ticchettivo quanto è profondo? avete sentito che dopo la parola quanto è profondo? c'è un verso strano si si c'è qualcuno? visto c'è questo eo c'è qualcuno? e qui tirano qualcosa dal soffitto tipo un sasso si sente il suono scusate io ascolto non posso scrivere è proprio un eco ora ascoltate un attimo qui dentro efef chiocciola patrizia senso qui si sente un ticchettivo strano di pozzo magari ci hanno buttato più Jurassic Park 5 di pozzo magari ci hanno buttato più di una persona nel pozzo si vede un viso eh sì può essere che si vede anche un viso nel pozzo si vede un viso aspettate che vi rifaccio risentire l'urlo nel pozzo di pozzo magari ci hanno buttato più di una persona quando fa o c'è qualche anima Claudio Bisio quando fa o c'è un viso? state un attimo noi abbiamo un grido di donna ste stacca la voce rullo non si capisce stacchiamo la voce rullo chiocciola e Manuela ma a me mi hanno sempre detto che i morti sui di pozzo magari ci hanno buttato aspettate che prima eccole qui dopo della botola quanto è profondo c'è qualcuno? no non vedo niente però di faccia eh sono scivai quanto è profondo non si capisce comunque qualcosa ci sarà sì in quel pozzo c'è qualcuno? vi faccio risentire il grido e poi poi si ritorna da voi di pozzo magari ci hanno buttato più di una persona di pozzo magari ci hanno buttato più di una persona che era questo rumore? c'è qualche anima? ho sentito una vocina tipo eh così bene dai ve l'ho fatto rivedere perché almeno quelli che sono entrati da poco hanno hanno avuto modo di rivedere il video un'altra volta vediamo un po' se ritorno dalla parte di qua chiocciola e Manuela perché anni fa non venivano battezzati grazie ste sì è vero anche quello che non venivano battezzati chiocciola Andrea Casole 382 ciao allora chi è entrato? Antonio ciao Antonio buonasera Azzurra Alex ma queste a voltazzono comparise solo L'edone comparise solo L'edone eh Loana volevi dire solo le donne quando eri lì non l'hai vista la donna nella botola? oddio io nella botola ho notato ma la donna si era trasformata ma ho che muro io non ce l'ho fatta è stata la telecamera che mi ha preso una bella immagine chiocciola Ioana poi al 43 Vlad Tepes le mie figlie non lo battezzate è grave? bella questa urbex avete avuto paura? beh qualche momento sì diciamo ci siamo leggermente guardati in faccia però insomma dai non è che ci hanno dato fastidio più di tanto era una paura dell'ignoto più che altro fate qualche domanda a car Roberto se no mi si addormenta ma no non è vero io non ho visto niente X che mi è saltata la corrente e internet si è bloccato no ma nell'urbex è fatta l'altra sera chiocciola Lucy se vuoi un consiglio fallo chiocciola Lucy no tranquilla chiocciola Lucy no c è chi si battezza da grande abbiamo iniziato a salire sky e non si sapeva che c'era e su un soffitto nel scale della soffitta perché sai che le soffitte chiocciola Antonella Radadea su YouTube la trovi tutta stanno più volentieri Roberto sveglia ti portiamo il caffè chiocciola Antonella Radadea Stefano puoi rimandarlo chiocciola Lucy io non lo so ma all'epoca parlo di bambini morti subito dopo il parto che non li battezza aspettate che ve lo faccio rivedere un attimo chiocciola Patrice grazie guarda bianco dove va? un soffitto un altro soffitto un altro soffitto nascosto questa è la scala qui ci vuole la scala però come si fa andare lassù bene su un scivario quanto è profondo? c'è qualcuno? c'è qualcuno? c'è qualche anima? una vocina tipo così dove va? un soffitto un altro soffitto un altro soffitto magari con un KINETIC vedere se c'era qualche presenza in giro ma noi l'originale l'abbiamo vero? ci sa l'originale ma andrebbe passato col KINETIC va kinetizzato non so quanto ci vuole mezza giornata che stupido veramente? Stefano dice di no però non vorrei averlo portato a casa qualcuno insomma o qualcuna ma che mi dici cuore bianco qualcuno è stato morso dove? ma no morso penso di no ma è difficile che diano morsi perché non c'hanno denti ma è giroberto cosa scusa? non ti addormentare e fai il bravo no 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 ragazzi non dà diretta a Stefano perché uno è stato morso al braccio ma ma chi? ma dove? dal Dracola? ma da un Dracola sì da un vampiro ma da una presenza o un'entità oppure una coscienza un fantasma senza dentiera sarebbe un po' difficile morsicare qualcuno o hanno rubato una dentiera da un vecchietto ci hanno morsicato il braccio di quello e poi sapete che insomma che ci dite di questa urbex noi ne faremo un'altra lì accanto c'è un altro podere speriamo che non sia paurosa come questa poi anche quella verrà messa su youtube dopodiché in questi due posti uno dopo l'altro ci faremo dentro un'indagine paranormale hanno sentito un carion? hanno sentito il carion? cosa si fa? ogni tanto me lo dicono che sento un carion ma io ce l'ho lì dentro e spesso succede spesso? si vede che cioè io un cuffio non l'ho sentito ragazzi vi dico la verità no non ci sono le cuffie ragazzi non si sente che sensazione abbiamo avuto in qualche momento c'era troppo silenzio o troppi rumori particolari quindi uno aveva un po' di paura però eravamo in due e poi siamo due cacciatori di fantasmi quindi non è che siamo sprovveduti mica è la prima volta che si va nel mezzo a tutte queste presenze è successo parecchie volte quindi la paura un attimo poi passa subito arriva la consapevolezza che scaccia la paura e io l'urlo l'ho sentito bene quello del pozzo perché ero davanti al pozzo a due metri invece Roberto era già spostato sulla destra e quindi l'ha preso anche la telecamera ha preso anche quell'urlo lì e io ho fatto subito ho sentito qualcosa e l'ho detto a Roberto perché era lì vicino siamo a parte attaccati qui no in l'aria mai per ora no ci hanno tirato un sasso però non hanno preso nessuno secondo me era solamente un modo di farsi notare di farci la signora che è nella botola ci sono anch'io chi era da dove è questo rumore ora smesso mi si dono le orecchie comunque parecchi di voi c'erano durante questa live perché le urbex se c'è linea buona le facciamo in live qualche volta anche le indagini però sempre se c'è linea buona se no invece purtroppo le dovete riguardarvele dopo ma questa l'abbiamo fatta in live quindi qualcuno di voi c'era? ci sono dei rumori vero cuore bianco lo sentite anch'io chi è che ci viene a trovare stasera? grazie Max del complimento bella live bravi tutti e due grazie Max ne faremo altre vi accontenteremo in tutti i versi vedrai secondo me se ci seguite avrete modo di vedere cose abbastanza singolari insomma non è facile trovare presenze genuine che si fanno sentire e vedere non è facile specialmente durante una urbex perché sai la urbex è fatta solo per esplorare il posto no? beh invece se erano indagini insomma era tu chi è? è giù tipo il gatto l'altra sera è ritornato il gatto? sei te? e ragazzi qui c'è sempre qualche cosa c'è sempre qualche animale che bussa la porta poi entra ci saluta e va via ma è successo l'altra sera per la prima volta un gatto ha bussato nella porta e poi ha fatto miau e ho capito aprimi che voglio entrare infatti è entrato ha guardato poi è andato via dopo un po' è ritornato è andato in grotta era un gatto simpatico dai allora Nadia buonasera ben vista un abbraccio grande grande come stai? quasi quasi rimetto la vostra voce perché mi manca Nadia B grazie grazie Nadia grazie dei complimenti ora metto anche la vostra voce è Romolo cuore bianco cuore bianco cuore bianco mi garba mi garba allora che ci dite? chiocciola luana è un amore buonasera buonasera hai conosciuto Mario? chiocciola di punto di punto di punto di punto di punto di nove tre sera come no Mario romolo chiocciola di punto di punto di punto di nove tre dede pi e accento acuto ciao Roberto c'ha una parte della sua casa che è infestata anche la sua buona siamo stati a farci come i ghostbaster un mitra l'ultimo piano della sua casa c'è Stefano vedi se c'è Mario no sono quattro abitanti chiocciola luana io stesso sono un'arma la anima nella botola che anima era il nostro amico Flavio se andate su youtube c'è pure il filmato vi seguirò anche di là dal fosso virgolette di là dal fosso va bene Nadia perché vai di là dal fosso poi alla fine che vi devo dire? eh sì che sei Umbra che sta di là dal fosso l'ho visto Roberto vai abitar di là eh ma perché non si dice qui in Toscana vuol dire da dal fosso chiocciola patrizia non farmi allossire eh appunto forse l'ha mandato Mario a gatto anche il mio cane si prende il biscotto dalla vicina di casa e se ne va ma pensate siete grandi chiocciola luana sera luana chiocciola d.d.p9350 inviti buonasera Roberto buonasera Mario si si perché se no chiocciola Angela ciao Angela perché tu stai sentendo quello che sentono loro io no chiocciola r e b e c g a t h e r e v ciao no 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 perfetto chiocciola d.d.p9300 quindi abbiamo trovato buonasera la combinazione giusta la combinazione giusta ma ho dovuto traslocare ma sempre sarteanese sarò non mi guardate mentre bevo con vergogna bravissimi complimenti roberto scappato chiocciola cuore bianco cuore bianco cuore bianco cuore bianco ciao tesoro chissà se fa qualche esperimento chiocciola r e b e c c a t h e r e v sera non c'è niente Stefano ciao chiocciola patrizia dai chiocciola priscilla che si fa stasera Valeria buonasera anche a te abbiamo già fatto quasi tutto chiocciola d.d.p93 Valeria che si fa stasera Stefano a parte i spintoni e tirare cose punto cosa possono fare chiocciola m i m m i n a allora gli spintoni possono darli ti ho salutato prima non mi hai salutato quindi ho preso uno spintone Rebecca effusa non è difficile prendere uno spintone Stefano buonasera accumulano tanta energia ah ma non mi è arrivata la notifica chiocciola luana porca miseria vabbè comunque tanto guarda anche questa live qui l'ho registrata quindi anche questa la troverete su youtube tutti quelli che perdono qualcosa se lo riguardano dopo come fa la rai no ti sei perso una puntata vai su rai video e te la riguardi qui si fa uguale chiocciola d.d.p93 grazie 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 tesoro bello ok Stefano di cosa si parla attiva campanella ora si discute un po' di voi se avete qualche domanda si parla di tutto perché abbiamo già fatto vedere i punti cruciali dell'urbs chiocciola d.d.p93 urbex vai su youtube la trovi si si su youtube la campanella è attivata le urbex le indagini le live quelle più importanti ti devo invitare a Bologna Stefano mi devi invitare a Bologna ma io non c'ero in live a San Giovanni in Persiceto avete parlato degli urbex a Crevalcore a quelle parti lì devi fare un'indagine con Roberto a Bologna d.d.p. si abbiamo un altro programma un programma un altro urbex si c'è prossimo prossimamente un'altra urbex metterò l'annuncio quando c'è la faremo in live e poi faremo due indagini una dietro l'altra dove c'è bisogno ci facciamo l'indagine bianco ultimamente si fanno sempre indagini insieme con Stefano Stefano San Giovanni in Persiceto vieni in Sardegna ti ho inviato un video della Sardegna Stefano quando è Mimimina c'ho due entità a casa mia uno si chiama Giulio quando ok ti seguo perché gli spiriti si manifestano oppure proprio quando avete fatto la urbex non mi è arrivata la notifica chi è Roberto non lo conosco eh perché non so quanto è pericolato questo era abbastanza buono dovravamo morare l'ultima volta sì alcune parti non erano praticabili però ti pago la giornata Stefano chi è che mi paga la giornata chi è Roberto non lo conosco per venire a Bologna sono io Roberto tornati a B penso che stai parlando con me non lo so Roberto abita a Cetona vorrei tasso venire anche io DJ Ice l'avrai visto spesso nelle nostre live eh Nadia sì comunque è un cetonese si vede no? sì anche noi sartanesi ci si riconosce dalla faccia si vede se uno è di sarteano o di cetona in qualche maniera eh Nadia B ci vorrebbe piacere ma non so quanto siamo distanti chiocciola Antonio di Venanzio come hai fatto X sapere come si chiamava Giulio anche io di origine solo cetonese 900 metri devo andare al piano di sotto di casa mia ma ho sentito l'urlo nel pozzo e ora ho paura hai paura? allora ascolta quando hai questi problemi di spostamento dimmelo che gli urli non li faccia sentire o le cancello se no poi c'è un rimorso di coscienza chi è di origine cetonese? chiocciola Silvia anche te sei di origine cetonese? Nadia non lo sapevo che è nata cetona chiocciola M.I.M.M.I.M.I.M.A ha ragione se sei di origine cetonese devi vedere chi c'è in casa io l'ho comprato era un rudere chiocciola cuore bianco cuore bianco cuore bianco cuore bianco hai presenza in casa? chiocciola Silvia sei troppo forte non va la linea stasera si blocca di mochi non ci funziona bene ci ho parlato con la vox non è sempre facile avere una buona nonna no di cetona era il mio babbo il tuo babbo era di cetona Nadia se poi mi dici il nome vediamo se lo conosco lo conoscevo chiocciola Antonio di Venanzio importante Carion avete sentito Carion? non è dove verrà sto carino noi creiamo i messaggi i messaggi? disturbano mio figlio Angelo tre giorni che non dorme sì ma come mai non dorme? complimenti anche a te Roberto X il tuo coraggio di nuovo ecco a coraggio perché ci sono io vicino so non mi che ci andrebbe da solo ma chi? te complimenti anche a te Roberto per il tuo coraggio grazie Mimmina chiocciola M.I.M.M.I.N.A ho paura veramente mi sa che non ci vado non ci vai? chiocciola Adele dove eri? chiocciola Adele sera infatti Stefano i miei nonni erano baglioni chiocciola cuore bianco cuore bianco cuore bianco cuore bianco e tu N.N. puoi fare N.N.T. tesoro preghiera angelo non lo fanno dormire Stefano chiocciola Patrizia poi ti spiego chiocciola Adele ciao chiocciola Max passione paranormal sera c'è tanta gente chiocciola Ilaria M ciao chiocciola Adele ok dopo ti chiamo chiocciola Adele Adele Ttok quant'è questa live perché io più di un'ora ne le posso fare dopo non mi si scaricano no 43 minuti ancora no dai abbiamo questa abitudine abbiamo questo questo andamento di troncare le live appena scatta un'ora perché almeno Ttok ce le fa scaricare poi le mettiamo su YouTube e se le guardano tutti perché se le fanno più di un'ora Stefano Angelo non vuole i sigini in camera sua non ve la fanno più scaricare perché chiocciola Patrizia il software è troppo pesante è troppo grosso non si può scaricare quindi ho preso questo quindi ho preso questo chiocciola cuore bianco cuore bianco cuore bianco cuore bianco mettilo nascosto mi ascolti Stefano è vero il sigillo lo puoi anche nascondere Stefano una domanda è possibile una possessione in una indagine? dici cuore bianco di nuovo la comitiva è tutta qua manca Antonio chiocciola cuore bianco cuore bianco cuore bianco cuore bianco nn ce lo fai capire una possessione in una indagine può darsi sai che qualche presenza va per un momento chiocciola d.d.p.93 e se noi ci amiamo tutto è possibile anche la cosa lì chiocciola patrizia nascosto non si vede chiocciola d.d.p.93 se gli danno fastidio i come si chiamano metti la croce di San Benedetto la usano o per gli esorcismi Stefano chi è il più coraggioso tra voi due la Stefani che lavora alla Cov la conosci? Biscugina Roberto 6 di Cassa chiocciola Adele chiocciola cuore bianco cuore bianco cuore bianco cuore bianco dietro un quadro Stefano Angelo sta sclerando Angelo sta sclerando può darsi che non c'entri niente il paranormale eh pari bianco ma cosa siete una setta ragazzi non me la raccontate giusta Luana sono di cassa San Michele Arcangelo prendi acqua santa e pulisci casa e metti da sul letto siete una setta ragazzi non me la raccontate giusta chiocciola Luana non ha quadri in camera sua chiocciola D.D.P93 chiocciola D.D.P93 si tu sei il capo Mario è più coraggioso Mimina sicuramente Mario è più coraggiosi di voi due Centra Stefano li ho visti chiocciola cuore bianco cuore bianco cuore bianco cuore bianco sotto il materasso l'hai visti sotto il materasso no Ilaria chiocciola Patrizia no no non mi è mai piaciuto fare il capo non mi è mai piaciuto fare il capo la croce di San Benedetto la usano per gli esorcismi chiocciola Ilaria M se li vede si arrabbia Angelo si è spariti quasi del tutto chiocciola D.D.P93 dice chiocciola cuore bianco cuore bianco cuore bianco cuore bianco puoi metterlo ecco sotto materasso io lo stavo dicendo il cane va sotto veloce bene ragazzi io comincerei a salutarvi perché tanto questa live noi bisognerà chiuderla fra qualche minuto abbiamo fatto vedere quello che è successo durante la urbex e certo se lo vede Angelo non vuole croci e sigilli in casa portalo in chiesa e lo fai parlare magari può aiutarlo chiocciola Patrizia già va meglio se vuoi fallo tu il capo buonanotte e grazie per l'intrattenimento cuore bianco guardano veramente perché ciao Stefano e Roberto una volta di più ora come si chiama l'indagine che avete fatto l'indagine che abbiamo fatto l'abbiamo chiamata urbex e chiocciola D.D.P93 no no lo faccio fare agli altri affamati di successo ciao a tutti ciao a tutti prepara un pranzo e metterlo nella stanza vedi se toccano niente chiocciola Adele devi venire Stefano a Bologna notte notte a tutti non lo so se sarà tanto facile notte a tutti vi lovo ok buonanotte a tutti ragazzi chiocciola M.I.M.M.I.N.A grazie della partecipazione chiocciola Patrizia grazie della compagnia vi faccio saluta anche da Roberto che porta bene buonanotte Stefano e Roberto grazie della compagnia grazie Stefano e Roberto grazie Priscilla bravissimi sempre gentilissimi buona serata buonanotte notte non vuole andare neanche in chiesa notte ragazzi alla prossima L.L.O.R.A buonanotte Nadia buonanotte a tutti ciao Stefano e Roberto buonanotte buonanotte notti Robi chiocciola Priscilla notte cara Adoro entrambi Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti